In Italia continuano a far discutere le posizioni del Movimento 5 Stelle su terrorismo e sul dialogo con gli estremisti. Peppe Grillo accusa Renzi di aver strumentalizzato le posizioni del Movimento e nel mirino finiscono come sempre i giornalisti. Ma tra i 5 Stelle non mancano le voci politiche. Sentiamo Monica Giandotti. Sono le polemiche sulle vicende irachene il terreno su cui si consuma l'ultimo strappo dei 5 Stelle. L'attacco questa volta arriva dal responsabile della comunicazione Casalino contro il TG1. Reo a suo dire di aver confezionato un servizio non corrispondente al senso del videomessaggio in cui ieri Peppe Grillo era intervenuto in maniera definitiva sui rapporti col governo. Replicando le critiche arrivate al Movimento in seguito ai due post di Alessandro Di Battista sullo stato islamico e sulle violenze in Iraq, il leader aveva detto ci hanno coperto di schifezzo, sbagliato a parlare con loro. Aggiungendo verificherò se ci sono gli estremi per chiedere i danni a Renzi per aver detto che noi parliamo con i terroristi. I 5 Stelle dunque tornano sulle barricate. Anche oggi sul blog un attacco a Renzi e alla sua doccia gelata in favore della campagna contro la SLA e a inasprire le polemiche e le dichiarazioni di Paolo Becchi, professore vicino al Movimento. Sediamo le armi i curdi, non possiamo lamentarci se alle due italiane in mano all'ISIS tagliano la gola. E la risposta, pungente dell'ambasciatore iracheno Di Battista, se l'onorevole vuole andare a intavolare una discussione con i terroristi sappia che il suo visto è pronto. Il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio non commenta i post di Di Battista ma esplicita che la posizione ufficiale del Movimento è quella della risoluzione presentata alle commissioni difesa ed esteri che di quelle tesi non tiene conto. Più esplicito è Tommaso Curro che dice no al dialogo con i terroristi, basta giustificare la violenza. Chiediamo che siano trovate altre soluzioni, noi ne abbiamo fornite e che non vengano inviate armi ai curdi. Anche sul futuro del dialogo col governo il Movimento si divide, nonostante la netta chiusura di Grillo Di Maio spiega che sulla giustizia il Movimento rimane disponibile a confronto a patto che Renzi sceglia tra Berlusconi e 5 Stelle.